ebbè bisogna bisogna dare tutti una mano noi per quello che ci riguarda lo facciamo poi vediamo ma stamattina c'è chi catturava piedi pure l'arteggire voi state preparando il prato c'è altra gente che taglia l'erba questo sempre per l'amore di san francesco il nostro caro san francese però non c'è chi c'è? bisogna rinnovare il prato quindi si è tolta tutta l'erbaccia per rigenerare il terreno perché ormai non cresce più l'erba questo lo facciamo volentieri come vedete c'è molta gente piena di buona volontà e per San Francesco si fa tutto c'è tutta l'erba come vedete e io lo do una mano 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 Anche io ho fatto la mia parte, ho tagliato l'erba e ora vi mostro il lavoro fatto. La mia parte, la mia parte, la mia parte, la mia parte. Abbiamo fatto un bel lavoro, l'erba è tagliata per bene. Il chiostro ci mostra come sempre bello. Una volta a mese bisogna fare questo lavoro. L'erba cresce, però sempre per amore di San Francesco non si fa volentieri. La mia parte, la mia parte, la mia parte, la mia parte. La mia parte, la mia parte, la mia parte. La mia parte, la mia parte, la mia parte. La mia parte, la mia parte, la mia parte. La mia parte, la mia parte, la mia parte. La mia parte, la mia parte, la mia parte. 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 La mia parte, la mia parte.